Torna il divieto di vendere alcolici a ridosso di Piazza Grande. È stata infatti firmata dal sindaco Ghinelli l'ordinanza che contiene le misure per la sicurezza urbana in occasione degli appuntamenti previsti dal programma della giostra del Saracino. Le esposizioni previste per i giorni di giovedì 31 agosto dalle 15.30 alle 20 durante lo svolgimento della simulazione di gara, venerdì 1 settembre dalle 19 alle 2 in occasione della prova generale ed infine domenica 3 settembre dalle 15.30 alle 24 durante la giostra del Saracino. Divieto dunque in Piazza Grande di accesso agli animali e alle persone in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di bevande alcoliche, vietata poi l'introduzione e l'uso di fumogeni, petardi ma anche trombe da stadio, tamburi e bandiere di dimensione superiore ad un metro per lato. Divieto di ingresso anche per aste rigide di qualsiasi taglio ed aste flessibili di lunghezza superiore ad un metro, vietate anche luci laser ed altri oggetti che possano recare disturbo a cavalli e cavalieri. Ai titolari e ai gestori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che si trovano in Piazza Grande, via Vasari, via Pescaia e via Seteria è fatto poi divieto di somministrazione e consumo sul posto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, vietata anche la vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro e o lattine ed infine la somministrazione e la vendita per asporto di bevande alcoliche. Le violazioni alle disposizioni dell'ordinanza saranno punite con sanzioni amministrative da 300 a 1.000 euro. Pronto anche il consueto piano di emergenza dell'Asla Toscana Sud-Est da impegnare in caso di malori o incidenti durante lo svolgimento della manifestazione. 6 le ambulanze che saranno presenti tra dentro e fuori la piazza e 30 i soccorretori delle associazioni di volontariato che affiancheranno il 118. Anche il corteo di figuranti sarà accompagnato da due ambulanze sanitari pronti ad intervenire. Quest'anno, vista la concomitanza con la fiera antiquaria e le previste maggiori presenze, il coordinamento regionale delle maxi-emergenze metterà a disposizione anche un drone per avere nell'immediato le immagini dall'alto. Naturalmente l'Asla Toscana Sud-Est seguirà ed assisterà il saracino anche nella parte veterinaria, quella che riguarda i cavalli.